buongiorno a tutti video veloce per la prepartita di atalanta young boys è da un po di tempo che non mi faccio vedere anche con le high reaction perché appunto vabbè con l'inter ero assente per fortuna perché non lo che non l'ho vista visto quello che è successo alla fine della partita e mentre appunto non farò la pre action su young boys che sarò allo stadio e anche milan sarò allo stadio punto scritto qua sopra mille iscritti niente live purtroppo stasera proverò a fare qualche video ma non riuscirò a farla live appunto perché come vedrete qua sotto ci sono pochi iscritti e vi invito appunto a mettere questa iscrizione per poter arrivare a mille non ci sono guadagni niente perché bisogna arrivare a 4 5 mila iscritti quindi non preoccupatevi se qualcuno si preoccupa che qualcuno ci guadagni in questi video assolutamente ecco fatelo per favore così almeno riuscirò appunto ad andare spesso allo stadio quest'anno visto che cercano di aprire ancora di più la possibilità di andare sembra che arriviamo al 75 80 per cento quindi invito appunto a fare l'iscrizione così da poterti farvi la live diretta dalla curva nord di cui stasera sarò proesente a tifare forte per poter vincere questa partita una partita sicuramente che non è per niente facile come qualcuno può descrivere uno young boys capito appunto con magister united già l'ha fatto vedere quindi di vincere con una squadra abbastanza importante vabbè la magister united rimasto in 10 ma questo non giustifica il fatto che lo young boys si è portato a casa la vittoria abbiamo visto ieri sera appunto parlando di di squadre in 10 complimenti a milana che ha sopportato per 80 minuti ho visto l'espulsione di che si più o meno lo stesso minuto in cui è stato espulso il giocatore del manchester nel turno scorso e portandosi quasi a quasi l'uno a zero e la vittoria purtroppo poi in pochi minuti successo di tutto un rigore che sinceramente non non poteva starci quindi quando si è visto appunto che c'è stato in anticipo il tocco di mano dalla parte del giocatore dell'atletico madrid comunque così andata ci sono ancora quattro partite per per il minan vedremo cosa cosa saprà fare uno shaktar don est e inter che avevamo visto dire che l'inter non vale moltissimo almeno in champions league ho visto giocare lo young boy lo shaktar lo shaktar l'ho visto giocare e non ha fatto tantissimi tiri soprattutto per quello che è finita poi in parità con la stessa anche l'inter devo dire che erano in poca posa rispetto a come aveva giocato aveva giocato sabato nei momenti in cui l'atalanta l'ha fatta l'ha fatta giocare attenzione appunto a questa partita perché noi abbiamo visto ieri sera appunto cosa è successo con il real madrid che perde in casa con lo sheriff la cenerentola di tutta questa champions league moldava non si sapeva niente e pure va a vincere a madrid cosa che avremmo voluto sicuramente fare l'anno scorso invece loro subito è capitato hanno fatto una buona partita gran madrid ha segnato solo su rigore un grandissimo portiere che ha parato un po di tutto ci vuole anche quello comunque si sono portati a casa anche dico meritatamente la vittoria niente concludiamo qua il video molto corto per appunto per per dirvi di di supportarmi e portare i 1000 iscritti per portarvi la live io proverò a fare come detto dei dei video che mi possono dare un po l'emozione un po di di quello che sarà successo allo stadio stasera da direttamente dalla curva nord dal tifo metterò a tifare sicuramente quindi poi vedrò cosa riuscirò a postare non sono un gran regista quindi vedremo se soprattutto nel post riusciamo a fare a fare qualcosa qualcosa di buono anche perché se è una live uno ci tiene sicuramente perché mi state guardando in diretta quindi sicuramente ci tiene di più a fare qualcosa di più di più elaborato mentre nel caso di video così sporadici qua e là o uno cerca di fare ma sicuramente si prende più della foga del del tifo come giustamente potrebbe essere ricordo appunto scriverti mettere mi piace ma proprio per tutto scriversi al canale arrivare a questi benedetti mili iscritti sono pochissimi quelli che ho adesso continuo a dirlo chiedete ai vostri amici i vostri parenti e di modo che riusciamo poi a fare anche delle live direttamente dallo stadio in cui vorrò esserci presente quest'anno molto molto spesso essendo allo stadio non potrò fare live reaction ecco infine questo video lo vedete un po particolare per non vedere anche gli sfondi è usato con snapchat quindi un po vedete che si vede sì e no e quindi non è proprio perfetto però comunque è un video veloce per per annunciarvi appunto quello che farò prossimamente e appunto la anche la mia assenza di una settimana e mezzo diciamo dai video per appunto per motivi di presenza allo stadio un grande giornata per che così concluderà nel pomeriggio poi la sera vedremo cosa fanno anche i nostri gli altri avversari nella nella ripetizione della finale di europa league manchester contro villareal una buona giornata a tutti e forza talanta